La provincia di Arezzo da lunedì 12 aprile torna in zona arancione. Il ministro Speranza ha comunicato infatti che la situazione in Toscana è migliorata e pertanto ci sono i presupposti per passare nella fascia con minori restrizioni. Poi il governatore Gianni ha valutato le singole province ed ha assegnato all'intero Arettino il tanto sospirato arancione. Non era scontato che in tutta la provincia le misure venissero allentate, soprattutto in virtù di alcune criticità presenti in dei comuni del Valderno e Arettino. Ma comunque dopo settimane arriva finalmente una boccata d'ossigeno per i tanti esercizi commerciali che avevano abbassato le saracinesche in zona rossa, nonostante la tensione debba comunque sempre restare alta. Torneranno a riaprire così tutti i negozi, anche quelli considerati non essenziali nel fine settimana, però i centri commerciali continueranno a restare chiusi, ad eccezione di supermercati e farmacie. Anche parrucchieri e centri estetici torneranno al lavoro, mentre bar e ristoranti continueranno a svolgere la loro attività nelle modalità di esporto o consegne a domicilio. Purtroppo resteranno chiusi ancora musei, cinema, teatri e palestre. Ritorno alla normalità da lunedì anche per gli studenti delle scuole medie, mentre quelli delle superiori vedranno ridotta la DAD almeno del 50% e torneranno così in classe a turno. Sarà infine possibile spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri comuni sono invece consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.